Stasera il punteggio è il dichiarvoce, il cavalletto è rotto. Seven in doppia cifra stasera, fatelo giocare! Mere, tu hai qualche partita in dvd che ti ho dato io? No! Sì! Andiamo in streaming, andiamo in streaming! No, in streaming no! Non ha voluto! I streaming che non la voglio dire! Beh, guardate! Bocca il giorno! P capacitor! first let's play... Sciugami... Roma del finale! Viene, viene! Sciugami... Ciao! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 5.30 al termine. 32 a 6. con l'uscita di Seven il Cagli non vede più la luce. Grazie a tutti. grazie a tutti. vedete. dobbiamo essere veloce. Grazie. 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 Secondo tempo, 34-7, due falli e un fallo a Colagna. Grazie. Buonasera. Buonasera. Grazie. Buonasera. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 inizio. a tutti. 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 6. a tutti. 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 a tutti.